3 o 4 azioni sotto porta c'erano pur state, ma dal quadro generale del primo tempo, Ascoli e Genoa sembravano destinate fatalmente a chiudere i conti sullo 0-0, anche per rispetto per così dire ai due portieri record in fatto di rigori del campionato, Martina e Brini. Oltretutto il pari stava benissimo a tutti, ai Liguri per la salvezza e ai marchigiani per giungere a quota 10 partite utili consecutive, per la gioia se volete anche del campione di flash premiato da Ruzzi prima della partita. Ma quel che sembrava appunto un inconsapevole gioco delle parti veniva stravolto appena dopo l'intervallo. Al secondo della ripresa infatti il Genoa andava in vantaggio, traversone da destra di Corti, testa di Russo a due passi da Brini e gol. L'umore degli Ascolani naturalmente cambiava e 4 minuti dopo già era polemica per questo fallo di Onofri su Pirker. Delia forse a torto, forse a ragione non dava il rigore e Mazzone rischiava loro il tutto per tutto, mandando dentro contemporaneamente sia Zauì che De Ponti, così da formare assieme a Pirker l'inedita situazione per l'Ascoli di un attacco a tre punte. Al ventisesimo arrivavano i frutti, De Vecchi manda in area, Pirker ci prova due volte, la prima gli va male, la seconda molto meglio ed è il suo quinto gol personale oltre che l'1-1 per l'Ascoli. Al quarantadresimo sono ancora i marchigiani a sfiorare la marcatura e sarebbe stata la vittoria. Da Zauì a Greco esce fra una selva di gambe il rinfrancato Martina e il risultato non cambia, anche se cambia forse la considerazione per Zauì che in mezz'ora ha dimostrato oggi di non saper fare soltanto il portafortuna.